Sappiamo che dovremo fare più sport, ma di cosa ha davvero bisogno il nostro corpo? Cerchiamo di mangiare più sano, ma sappiamo scegliere il cibo giusto. Si dice che dovremo dormire otto ore a notte, ma abbiamo tutti le stesse esigenze? Con tanti consigli, spesso contrastanti, come possiamo migliorare davvero il nostro benessere? Si può essere sani e grassi? Quello che ho sempre creduto non ha senso. Un'ora di suono profondo ti potrebbe bastare. Il progresso tecnologico ci permette di fare cose incredibili. È la più grande rivoluzione nella storia della medicina. In un nuovo ciclo di documentari, BBC Knowledge smonta i falsi miti della salute per svelare tutta la verità sul tuo corpo. Il mercoledì, dalle 21 su BBC Knowledge.